Sto registrando, lo stai contando sotto? Sì. Ci sta il capellino lì. Laura, vai fino là. E nel saino rossa ci sta il capellino. Ricorda che lo guardo? Quali capellino tipo bello? Insomma, quale è il capellino che ti ho mostrato? Che sai cosa lo prendi? Stai con il saino rossio. E il capellino tipo bello. È blu. Vieni, 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 vieni amore, sono bravo. Basta! E per questo ti sto tolendo tale veloce perché è strotta. Ma vedi che questo non è il numero? Non è il numero, fanno. Adesso non è il numero. Tu è 37. Aspetta che lo tieni io. って la sua darò oltre. Tu non mi serve quello di Joyce. Ehi. Ehi. Basta. Tu le sono, ti parqueto, non mi sto a leggere. Se sto a leggere te. Dove sono andato a leggere. E saranno i due date la sua parola. Allora. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.